Comandante, allora un calendario che continua nel segno anche della tradizione, insomma sono molti gli anni, stiamo quasi per raggiungere il centenario, quasi, ci siamo vicini, però la continuità anche proprio nel segno della presenza artistica? Il calendario è sicuramente, ha degli elementi di continuità rispetto a quelli che sono stati, gli anni precedenti, l'anno scorso erano stati indicati i diversi stili artistici degli ultimi due secoli, i due secoli tra l'altro di vita dell'arma dei carabinieri, quest'anno sempre con raffigurazioni artistiche sono state invece individuate le attività a tutela dei principali settori svolte dall'arma dei carabinieri, delle tele, delle opere realizzate dal Nespolo che tra l'altro è un artista biellese, quindi di qui vicino, a cui fanno da contraltare delle opere realizzate da pittori internazionali che si trovano in quelle realtà geografiche dove l'arma dei carabinieri sta svolgendo missioni di pace o comunque a supporto delle forze di polizia locali per la formazione del personale locale. Un'opera è un'opera di continuità ma diventa anche in questo caso un'opera d'arte, lo stesso prodotto, lo stesso calendario? Il calendario è un oggetto che dal 1928 è stato realizzato e continua ad essere realizzato dal Comando Generale e distribuito, in realtà non è un oggetto in vendita, è un oggetto che viene acquistato solo dagli appartenenti all'arma e donato dagli appartenenti all'arma e ovviamente dagli uffici dell'arma e diventa un oggetto di raccolta, in effetti è un oggetto di collezionismo anche. Se mi consente di chiudere con una battuta, con un cambio di vocale, un po' anche a individuare bene la missione dei carabinieri, continuità se parlato, se cambio una consonante potrei dire anche contiguità? La presenza dei carabinieri è la forza dell'arma e la vicinanza alla popolazione, quindi il fatto che siano stati individuati, lo scopo della nostra missione che è quella di tutela di valori e di categorie deboli, quindi di valori, la libertà, la libertà che sono tutti rappresentati nel calendario, la libertà di espressione, la libertà di riunione, la tutela delle fasce più deboli, donne, anziani, bambini, sono dei valori che ovviamente vengono tutelati in ugual misura in Italia e all'estero dall'arma dei carabinieri, che proprio in funzione di questa sua frammentarietà, di questa sua presenza capillare in tutto il territorio nazionale riesce a garantire una presenza immediata e una vicinanza al cittadino immediata.